Ciao a tutti sorrisini e benvenuti in questo nuovo video Pianta la vita Allora, praticamente mi è venuta un'idea Siccome dobbiamo partire, andiamo via 4 giorni, andiamo in Toscana Speriamo di divertirci perché con Ale sarà un po' difficile La coca hola La coca hola Stiamo preparando la valigia Allora, mi è venuta un'idea Ho detto, perché non facciamo una challenge del tipo Io preparo la valigia ad Ale e Ale prepara la mia Cioè, non so perché mi si è venuta in mente questa idea Perché chissà Ale cosa metterà dentro la mia valigia Però praticamente per vedere cosa salta fuori Perché per dire, ad Ale non va mai bene quello che dico io E poi sicuramente lui riempirà la mia valigia di cose inutili Starnuto? Prego Starnutisca pure Cioè, hai bisogno di tutta questa meditazione per fare uno starnuto? Non ho capito? Niente Vabbè Comunque, quindi, questo sarà il video di oggi Quindi, insomma Siamo pronti Io là ho già la mia valigia Quindi la mia c'è L'unica cosa è che non c'è quella di Ale Quindi ora andai in cantina A prendere la valigia tua Che io ti riempirò a modo mio Ti metterò tutti quei pantaloni scozzesi Che mi hai fatto prendere che sei mai messo No, 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 no Sì Cambiamo un video Quelli di lino Anche la camicia di lino Tutto, tutto Io la roba di lino non me la metto Metta la roba mia Ale, di lino nel senso il tessuto di lino Lino è il fiume No, lino E' il fiume dei cinesi Vabbè Niente Vai a prendere la valigia E ci vediamo dopo qua Con tutte e due le valigie E vediamo che cosa combina Via Come la prenda? Come la do prendere? Ale, vabbè Ma adesso non c'è bisogno di fare i video Come la do prendere? Grande o piccola? Prendila normale Cioè Una valigia normale Ok Capino Mi c'è una valigia Per fare un video con la mamma Così devi fare? Un video con la mamma Devo farci Però c'è un po' vecchia Perché devo fargli uno scherzo Ti è sicuro? Sì, sì Scusa Così devi fare? Dico in realtà Devo fare uno scherzo Alla mamma Che c'è un topo dentro la valigia No, no Hai una valigia un po' vecchia? Sì, ma non devi dare Sì, sì, sì Ti fai vedere un copio Sì, vabbè È meglio No, no Dai 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 Oh, però io non te lo ho dato Io te lo dico Va bene, forse Beh, vabbè Io non te l'ho dato niente Va bene Però mi dai la valigia Sì Dammi 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 Perfetto 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 Questa è una valigia normale Giù Ma no È bellissima No dai Ale Veramente Mi rifiuto È bellissima sta valigia Ma io Voglio questa io Oh fammi quello che ti fai Appoggiala di là Che adesso cominciamo a fare il video Prima di qua Poi di là mettiamo dentro le tue cose Quindi passiamo prima le mie Quindi appoggiala di là Adesso farò finta che uscirà un topo Però prima devo andare a mettere di là un altro telefono Per vedere la reazione Ciao Ciao Svolta C'è un topo E' un topo dentro Oddio che schifo Ale io cazzo Ti ho detto di non prendere quella valigia Ti ho detto Mamma io ho paura Ci vado nello gatto Sì Riccardo Madonna Ale dove è andato sto coso Non lo so È in camera È camminato tutto da tutte le parti Eh Ma lei cos'era scusa Era un coso Era un grosso così Che camminava Madonna No dai Ale come l'ha fatto Ma sei sicuro di quello che dico Sì Ma c'ho mai tanti di là Ma io non ci vado di là Vai a chiamare papino vai Come lo chiamo Io non ci vado Ma dai Ale ti scherzando Io ho paura dei topi eh Mamma mia Io ho paura dei topi Ale sei sicuro che non topi? Ma no Ale come fai sapere che è un topo? Ho aperto la valigia È riuscito a soposo E non ci aspetti Non so dove l'altro No dai Io non ce la faccio eh Io ho paura adesso Cioè io non scendo da qui Io ve lo dico Io non scendo da qui Facciamo una corsa Scendi tu No no Io non faccio nessuna corsa Ma stiamo scherzando? Perché ti sei preso con la valigia là? Poi cosa c'abbiamo? I topi in i bani nel cartino? Eh vai Mamma mia che paura Lascerai il telefono di là? Guarda un po' C'è un topo Me ne vengo via Non è che ne vado in camera Pesso il telefono Scusa Io adesso come chiamano? Fina giù Adesso magari Eh vai prendere il telefono Io non vado a prendere un bel Ma no no Mi viene l'ansia Mi viene Mi viene che tipo Ma dai Vale veramente C'è un topo Ci vanno anche il gatto Un topo Il gatto Uccide i topi no? Un topo Eh Madonna Quanto è una donna? Il telefono ti dà pure il telefono Proviamo a chiamare che è MOLLE! Ma cosi svegli... MOLLE! Magari sta dormendo il topo, lo svegli e ti viene a mordere. MOLLE! Cosa urli che il topo viene di qua se no? Ma cosa c'entra? Beh che c'è una rampita il topo eh! Ti sale sul letto? Quello non mi sente, quello non mi sente. Ti sale sul letto? No, non sali sul letto! Sì! Aleppo dai davvero, io ho già l'ansia dei topi, mi fanno schifo mi fanno. No, i gatti! Dai Ale davvero, provo a andare... Fai una corsa, fai una corsa! Ti prego io non ce la faccio, Ale, ti prego? No, no, no. Io non ce la faccio, io non ce la faccio. Io sto qui tutto il giorno, te lo dico, ma non mi interessa. Eh, niente, ci vai te, devi far essere paure. Cioè io mi devo levare le paure, tu scusa sei qua, mi supera questo coso insieme a me, non ho capito. Perché non te le devi prima a te le paure, ma mi fanno schifo. Io l'ho già levata la paure, sono una schifo. Cioè, già mi fanno sempre assurdo che ci sia un topo in casa. se non hai visto qualcos'altro. Magari era una mosca, una cinta. Una mosca così? Ma non così pure. Eh, un rapido. Ma la zoccola, non è un topo. Una zoccola, la zoccola non si può dire. Un rapido e le fuori. Con il gatto e io... Ma la donna. Ma che non mi sente neanche? Si può anche fare un'interesse. Io so questo. Ma giusto. Ti provo ad andare. E vedi se è un topo perché... E' sotto letto mamma, sotto letto nostro. metto la coda. Mamma che schifo. Forse hai anche cagato. C'è una cosa marrone e un coso di un volero con la coda. Con la coda. No, 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 non molto. No Ale davvero mettiamo il papino, no? Davvero ti prego no Ale. Fai una corsa ti prego. Anche questa mi deve capitare. No, no, anche questa mi deve capitare. Ma cosa vuoi che ti capito? Chiudi questa porta, chiudi questa porta. Ma chi chiudi? Chiudi questa porta. Chiudi questa porta. Chiudi questa porta. Dai Ale davvero! Che città. Dai Ale, devi andare andando a tutto. Una cosa. Fai una cosa veloci dai ti prego. io ho il patema, corri, tanto la porta di casa è di corri come un matto, fai una cosa veloce per favore, veloce Ale, non mi lasciate qua da sfruttare, ecco il troppo, che schifo di qui, Ale, mi sono tu, è lo scherzo, dai Ale, forse, dai Ale, forse lo scherzo, se magari te vedi una telecamera da qualche parte, Ale, io un giorno di questi ci uccido, dai, fai un sorriso, guarda qui, cheese, troppo nascosto, dai fai cheese, vai ragazzi, vi lascio con un sorriso, ciao, che sta morendo, un sorriso, vieni qua, no, col cacchio, se ti rimetti e rendi il telefono, sei smirata, no, no, vieni qui, no, vieni qui, vieni qui, dammi un guarda ciabatta, vieni qui, vi ho voluto bere, ciao, scappo, vieni qui, Ale, non ti faccio ciao ciao ciao